Ciao e benvenuti, oggi vi presento un modulo carica batterie 18650 con un'utilissima funzione UPS che ci garantirà un funzionamento continuo anche in caso di interruzione di energia elettrica questo per tutti i dispositivi che hanno bisogno di 5, 9 o 12 volt buona visione allora vediamo da vicino questo modulo una scheda super economica in vendita su Aliexpress a circa 2,50 euro che ci permette di avere un'alimentazione senza interruzioni e quindi alimentare piccoli carichi anche in caso di blackout esistono tre versioni di questa scheda con altrettante tensioni di uscita 5 volt, 9 volt e 12 volt come si vede qui, qui è marchiato 5 volt è quindi una soluzione da pochi euro per realizzare mini UPS per router, telecamere di biosorveglianza e altri piccoli dispositivi elettronici con un consumo inferiore a 15 watt di potenza questo modulo in particolare a 5 volt quindi può erogare al massimo 3 ampere di corrente nel caso del modello a 9 volt avremo un'erogazione massima di 1,6 ampere invece nel modello a 12 volt avremo un'erogazione massima di 1,2 ampere è bene non superare questi valori di corrente perché c'è pericolo di fondere il circuito le sue dimensioni sono 89 mm x 42 x 25 di altezza sul retro abbiamo due porta batterie 18650 e adesso ne vediamo il funzionamento qui è presente una porta USB-C questa e quando è alimentata verranno forniti 5 volt all'uscita UPS questi due contatti UPS- UPS+, e contemporaneamente verranno ricaricate le due batterie 18650 nel momento in cui ci sarà un blackout e quindi la USB-C non sarà più alimentata automaticamente le due batterie attraverso un circuito di step up continueranno a fornire alimentazione all'uscita UPS senza nessuna interruzione questo modulo fornisce protezioni da sovratensione, sovracorrente, sovrascarica delle batterie infatti se queste verranno scaricate ho fatto un test fino a 2,8 volt verrà automaticamente interrotta l'alimentazione in modo da non sovrascaricare le batterie nel momento in cui torneremo ad alimentare l'USB-C verrà ripresa l'alimentazione del carico UPS e contemporaneamente verranno ricaricate le batterie adesso facciamo una prova colleghiamo la scheda inseriamo una batteria qui abbiamo meno e più appena mettiamo la batteria verrà segnalato la presenza di tensione con questo led rosso infatti se noi andiamo a misurare l'uscita su UPS dovremo avere 5 volt ecco qua 4,96 quindi il led rosso rimarrà sempre acceso fin quando c'è la batteria adesso se noi colleghiamo l'alimentazione ecco qua si accenderà quest'altro led rosso che sta ad indicare la carica a carica avvenuta avremo invece un led blu l'autoconsumo di questo modulo è di circa 25 mAh e può essere ridotto di ulteriori 10 mAh andando a rimuovere questo led altra cosa molto interessante di questo modulo è nel caso avessimo la necessità di aumentare la capacità delle batterie potremmo utilizzare più celle in parallelo a queste già previste nel mio caso ho acquistato due esemplari a 5 volt per due miei faretti usb e poterli spostare comodamente senza avere i fili tra i piedi all'inizio pensavo di alimentarli con un normale power bank ma non andava bene in quanto spegnendo i faretti anche solo per un minuto i power bank vanno in stand by costringendomi a staccare gli attaccari cavo usb invece con questi ho risolto il problema il circuito di ricarica si affida al noto chip TP4056 che è questo situato in questa posizione e a proposito di questo so che alcuni esemplari montano questa resistenza la R1 con un valore di 3000 anziché R300 che è quello giusto se così fosse dovete cortocircuitare R1 oppure sostituirla con una resistenza da 0,3 ohm passiamo al test ho saldato quindi sulle uscite UPS una spina usb mettiamo la batteria attenzione le polarità che sono indicate sul porta batterie adesso andiamo ad alimentare il modulo tramite una usb e come vedete adesso risulta in carica non so se si vede c'è questo led che indica la carica ad esempio adesso collegherò questo faretto per fare il test UPS ed eccolo qua adesso lo teniamo acceso adesso vado a staccare l'alimentazione simuliamo un blackout e lui senza interruzioni continuerà ad alimentare il led attraverso la batteria e così è riconmutato all'alimentazione principale quindi test riuscito ok il video è finito fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se vi va iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti